bene benvenuti a una nuova puntata del programma REMATONE Dove annavo Dove an dove annavo naivo che contiene di queste dimensioni fia fia punto fia Ojo! Alla pelca do Fianan Si non basta... Se ma Fiat punto, Fiat punto, Fiat punto Wow! No! 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 Gaia! Anche i pinguini elettronici facevano una università austriaca. Vero o falso? È vero! È vero! Tocca a te Stefano! Nella vasca dell'acqua si può usare del nastro adesivo. Vero o falso? No! 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 Grazie.